Diane Fossi fu una zoologa statunitense che dedicò la maggior parte della sua vita allo studio e alla salvaguardia dei gorilla in Ruanda. Il lavoro della ricercatrice la rese popolare non solo tra gli esperti, ma in tutto il mondo. Il rapporto di intimità e cordialità che Diane creò con animali considerati fino ad allora pericolosi ed aggressivi, stupie commosse l'opinione pubblica. Diane Fossi fu assassinata nella sua capanna il 26 dicembre del 1985 con lo stesso arnese usato dai bracconieri per abbattere i gorilla. Anche in questo giovedì la nostra attenzione sarà rivolta al regno animale. Nel dettaglio oggi accogliamo il grido disperato dei gorilla di montagna africani. I gorilla, protagonisti di leggende spesso false e probabilmente inventate dai primi colonizzatori europei. Vi si dipingeva ad esempio come animali feroci e violenti e si riteneva fossero pericolosi per le donne perché è in grado di abusare di loro. Non solo il leggendario King Kong si è ispirato ai nostri più possenti cugini, anche il personaggio di Donkey Kong, noto videogioco della Nintendo, o Maguilla Gorilla, cartone firmato Anna Barbera. E persino Fabrizio D'Andrea canta di Gorilla con un testo tradotto da una celebre canzone di Georges Brassens, Le Gorille. Sulla piazza di una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Oggi tali credenze sono state superate e si è imparato a conoscere i gorilla come animali docili, aggressivi solo se minacciati. La minaccia però incombe più che mai. La scimmia antropomorfa più grande al mondo con cui condividiamo oltre il 90% del nostro patrimonio genetico rischia l'estinzione. Dobbiamo intervenire al più presto. È quindi il momento di intervenire subito. Vado a collegarmi con il nostro ospite di questa sera che è presente nei nostri studi di Roma, Isabella Pratesi, direttore politica di conservazione internazionale del WWF Italia. Buonasera Isabella e ben ritrovata. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, abbiamo visto l'importanza con il servizio che questi animali hanno assunto anche nell'immaginario in passato, ma ora cerchiamo di conoscerli meglio attraverso la nostra carta di identità, partendo ovviamente dal nome scientifico di questi animali. Ecco, gorilla Beringuei Beringuei con un peso che nei maschi varia tra i 140 e i 180 kg, femmine 70-110 kg, con una dieta prevalentemente erbivora e con la distribuzione che poi vedremo molto importante, soprattutto nel Parco Nazionale della Virunga e del Buindi. E il numero di esemplari purtroppo molto molto basso, circa 880. Quindi, ecco Isabella, questa è proprio la prima domanda. Questo numero, questa specie minacciata, poi entraremo nel dettaglio delle minacce, ecco, questo numero è ai minimi storici. Qual è la situazione in questo momento? Allora, dobbiamo dire che 880, per fortuna, non sono i minimi storici. Questo animale ha raggiunto purtroppo negli anni 80, proprio dopo l'assassinio di Diane Fossey, il suo minimo storico. Erano arrivati a poche poche decine, arrivavano non più di 200 esemplari. In questi ultimi anni, per fortuna, col grandissimo aiuto della comunità internazionale, con l'aiuto dei parchi che hanno fatto il possibile, il gorilla di montagna è leggermente aumentato. Sono arrivati adesso 880 esemplari, ma 880 esemplari per garantire la sopravvivenza di questo animale sono veramente niente. Sono un pugno di animali che purtroppo, sempre più minacciati da nuove sfide, da nuovi consumi delle foreste e come vedremo poi anche da nuovi appetiti internazionali. Ecco, quindi tu ce l'hai già accennato, ci sono ancora minacce pressanti per la popolazione dei gorilla di montagna. Possiamo elencare alcune di queste minacce o anche tutte? Allora, diciamo che la minaccia maggiore è la distruzione dell'habitat. Il fatto che comunque il taglio delle foreste stia andando avanti minaccia ogni giorno questi animali che vivono in queste foreste tropicali eccezionali e hanno bisogno di avere un territorio ancora selvatico e ancora naturale. Quindi il fatto che l'uomo invece si stia mangiando a poco a poco il loro habitat è chiaro la più grande pressione che subiscono. Però sono anche animali che subiscono purtroppo il bracconaggio. Soprattutto quelli che vivono fuori dai confini del parco rischiano di essere uccisi e commercializzati come trofei e uccisi per la carne. Purtroppo ancora un commercio drammatico che riguarda in parte gorilla di montagna ma moltissimo, in realtà tutti gorilla del bacino del Congo. Il fatto che la carne di gorilla possa essere trovata nei mercati africani è un vero dramma. Il WWF ogni anno effettua numerosissimi sequestri, numerosissimi controlli contro il bracconaggio, però non è mai sufficiente. Proprio per questo in realtà abbiamo bisogno del sostegno della comunità internazionale perché il mondo intero deve essere dietro alla difesa dei gorilla, se no non ce la faremo a salvarli. Ecco, tra l'altro abbiamo raccolto alcuni dati sul commercio illegale nel mercato africano. Tu hai citato la carne di gorilla, ma ci sono anche altri problemi che possiamo vedere appunto con la nostra grafica che mostrano come anche i piccoli di gorilla siano oggetto di questo commercio con un valore che va dai 15.000 ai 40.000 dollari, ecco il chilo di carne da pochi centesimi a pochi dollari, ecco la grafica e una mano di un gorilla come trofeo addirittura meno di 6 dollari. Ecco Isabella, tu hai citato la deforestazione, un problema sicuramente importantissimo, addirittura leggevo poi nel comunicato stampa che voi avete diffuso 700.000 ettri di foresta all'anno vengono tolti al bacino del Congo. Ecco, è un'area più o meno grande come il Friuli Venezia Giulia, grande come quindi una regione italiana. Abbiamo preparato una scheda proprio sull'habitat di questi animali che possiamo vedere, quindi nel dettaglio sono due i parchi nazionali più importanti che racchiudono questi stati, la Repubblica Democratica del Congo, l'Uganda e il Rwanda. Ecco Isabella ti chiedo, in queste straordinarie bellezze naturali ci sono delle leggi ferre che vengono aggirate oppure manca una regolamentazione per la tutela della biodiversità. Allora è un po' un misto di cose, è vero, esistono delle leggi e quelle poche leggi che esistono spesso non vengono rispettate, purtroppo l'illegalità, la corruzione è molto diffusa e bisogna proprio prenderne atto e d'altra parte ci sono delle leggi che servirebbero per proteggere meglio questi animali, per proteggere meglio questi territori che ancora non vengono realizzate, che ancora non vengono approvate. Quindi bisognerebbe far rispettare quel poco che abbiamo di esistente ma guardare avanti e cercare di migliorare per avere una struttura legale che aiuti meglio a difendere i gorilla. Ecco, una delle minacce sicuramente più importanti è rappresentata dalle esplorazioni per fini petroliferi. Ecco, delle industrie stanno guardando queste zone e Gustavson, direttore conservazione WF internazionale, che penso tu conoscerai bene, ha posto una domanda in una lettera aperta a una di queste compagnie. Ecco, perché il profitto di un'azienda petrolifera deve avere la precedenza sulla sicurezza di migliaia di persone, sulla sopravvivenza di specie in drammatica via di estinzione e che non si trovano in nessun altro luogo della terra. Ecco, questa è la domanda. Quali sono i passi da fare, Isabella, per evitare che vengano concesse esplorazioni del territorio per questi scopi? Allora, dobbiamo innanzitutto dire che purtroppo le concessioni all'interno del parco del Virunga, che è questo luogo meraviglioso fatto di foresta primaria, di vulcani, sono state già in parte date, sono state già vendute. Quindi ci sono già delle compagnie petrolifere che hanno in mano la possibilità di realizzare per adesso, per lustrazioni, per capire se c'è effettivamente il petrolio, ma in futuro di creare proprio una vera estrazione del petrolio. Quindi distruggendo la foresta, perché quando queste industrie entrano in questi luoghi che sono unici e che sono estremamente selvaggi, creano dei disastri infiniti. Distruggono la foresta, creano inquinamento, portano malattie, perché questi gorilla sono anche soggetti purtroppo a malattie portate da noi e portano ulteriore criminalità, perché attraverso le strade arrivano altri bracconieri, arriva altra criminalità. Quindi cosa fare? La nostra campagna internazionale è tutta dedicata a cercare di convincere queste compagnie a fare un passo indietro, a rinunciare alle azioni che hanno già acquisito, a rinunciare ai loro profitti, a non interessarsi al petrolio in quei territori che sono proprio per disegnazione dell'UNESCO patrimonio dell'umanità e collaborare piuttosto alla conservazione sia dei parchi, sia dei gorilla e anche delle comunità che vivono in queste aree. Ed effettivamente l'Africa ha chiesto aiuto all'Europa, c'è stata una conferenza importante a Bruxelles il 31 gennaio scorso con Manuel Demerod, che è il direttore del Parco del Bilungo, che appunto ha fatto un'opera di sensibilizzazione. Ecco, tu sei andata a questa conferenza e ti chiedo, è stato deciso qualcosa, sono stati fatti passi in avanti per la tutela della specie? Non è stato deciso niente, però di per sé la conferenza è stata molto importante, sia perché avveniva a Bruxelles, che è la capitale dell'Unione Europea, e l'Unione Europea è stato un grandissimo sostenitore della conservazione dei gorilla e della conservazione del Virunga. Proprio anche per questo nel 2012 l'Unione Europea ha vinto il Nobel della pace. Quindi il fatto che questa conferenza avvenisse a Bruxelles, il fatto che ci fosse il direttore del Parco del Virunga, che è una persona eccezionale, noi lo chiamiamo il principe dei gorilla, perché effettivamente è di una famiglia cipesca belga, ha lasciato tutto per dedicarsi a 43 anni alla conservazione dei gorilla e alla difesa del parco. Il fatto che ci fosse anche il ministro belga degli esteri che ha garantito che farà tutto il possibile affinché anche gli altri ministeri europei si mettano in difesa del parco. Quindi anche gli altri governi chiedono alle proprie compagnie di non entrare nel parco del Virunga per sfruttare il petrolio e di lasciare in pace questi animali che, come abbiamo detto, ne sono rimasti pochissimi. Sono in via di estinzione, dobbiamo assolutamente aiutarli perché sono animali unici. Ecco, sono animali unici. Ti chiedo, tu hai conosciuto questi animali? Sei stata in quei posti? Io sono stata nel cuore del bacino del Congo, sono stata nella Repubblica Centroafricana e ho avuto il grandissimo onore di entrare in contatto con una piccola comunità di gorilla. Era un gorilla di pianura, sono leggermente diversi ma ugualmente meravigliosi e devo dire che osservare negli occhi un gorilla, guardare la sua somiglianza a noi è un vero richiamo ancestrale perché hanno con noi quasi tutto, condividono quasi tutto, anche sentimenti, modalità di relazione. Sono degli animali unici, hanno il 98% di DNA in comune e quindi questo anche scientificamente ci ricorda la parentela e insomma io credo che chiunque ha visto da vicino questi animali, li ha osservati e li ha capiti non può non sostenerne la conservazione. E per sostenerne la conservazione, ecco, raccontaci insomma cosa dobbiamo fare, dobbiamo andare nel vostro sito, come possiamo aiutare questi animali? Il WWF da anni combatte per difendere i gorilla, infatti se abbiamo ancora i gorilla nel Centrafica è anche credo merito della nostra associazione, ma abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di soci, abbiamo bisogno di sostenitori, abbiamo bisogno di persone che si colleghino al nostro sito e legano tutto quello che facciamo e legano anche in che modo ci possono aiutare, soprattutto io immagino che diventare in qualche modo dei sostenitori dei gorilla vuol dire capirne il valore, diffonderne il valore e anche da fare una donazione, nel nostro sito è possibile donare per sostenere i gorilla, è possibile anche adottare i gorilla che è un gesto bellissimo e ci rende in qualche modo un pochino più vicini anche dall'Italia al cuore del Congo e soprattutto ecco stare vicino al WWF perché noi siamo in pochi e da soli non ce la facciamo. Quindi rinnovo ai nostri telespettatori questo appello, aiutiamo il WWF in questa importante campagna a favore di questi animali così simili e vicini al genere umano. Grazie a tutti. 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 Deep Impact. La cometa sarà facilmente visibile ad occhio nudo il prossimo dicembre, quando raggiungerà la minima distanza dalla Terra. Un appuntamento sicuramente da non perdere e che Prometeo non perderà. Vi ricordo inoltre che domani la nostra trasmissione sarà incentrata proprio sullo spazio, quindi un appuntamento da non perdere. Sicuramente Prometeo non se lo perderà. Inoltre la puntata di domani, quella del venerdì, sarà incentrata proprio sullo spazio, quindi non mancate. Infine vi ricordo come sempre il nostro portale web www.classmeteo.com per tutte le previsioni per la vostra città fino a 10 giorni. Iscriveteci al nostro indirizzo mail che vedete, molto semplice, meteo.class.it. Per rivedere questa puntata o quelle dei giorni scorsi, mi raccomando, visitate il Video Center sempre sul nostro sito. Anche per oggi abbiamo concluso. L'appuntamento come sempre è per domani alle 17.10. Intanto vi auguro una buona serata con la programmazione di Class TV MSNBC. Ci vediamo domani.